Prima di ritornare le polche, di ritornare in casa del maestro Marani, mi è stato riferito che c'è un grande sportivo motociclista qui presente in sala, un certo Ciani Oscar, dico bene? Gotto! Di Gotto, quindi non so dove sia, mi ha detto che è venuto qui questa sera, comunque mi è stato detto di farvi una dedica a questo grande sportivo, a questo grande atleta. Il brano che noi andiamo a dedicare è una polca, delle due polche che eseguiremo, andiamo in casa del maestro Tiberio Marani ed eseguiamo questa classica supersonica. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!